Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di procrastinazione. Procrastinare è un comportamento umano che ci rende perfettamente imperfetti perché è un qualcosa che da un certo punto di vista abbiamo dentro di noi da secoli, da generazioni. È un qualcosa che deriva storicamente addirittura dall'uomo sapiens. Procrastinare è rimandare per evitare un fallimento, aver paura di fare un salto nel vuoto e quindi proteggersi, andare in protezione per evitare di appunto subire del dolore, farci del male. Mi sono scritto degli appunti su questa cosa perché è un fenomeno interessante. Tendiamo a questo punto a sottovalutarci, a non affrontare i problemi oppure a sovrastimare le nostre potenzialità e quello è l'effetto Danny Kruger di cui ho un po' parlato nello scorso video. Ma leggendo un po' quello che ho scritto, anche per fare una spiegazione il più possibile lineare, procrastinare è un metodo per sfuggire a situazioni difficili e conservare energie utili alla nostra sopravvivenza. È un meccanismo di autodifesa e quindi come ho detto risale dall'antichità, sin dall'antichità, sin dai tempi più preistorici per l'appunto. È un qualcosa che abbiamo dentro di noi intrinseco. Ci protegge dalla paura di fallire, dalla paura del successo e delle aspettative che ci creiamo perché le aspettative sono imposte da noi stessi o un po' dalla società e da tutto quello che ci circonda nella vita di tutti i giorni. Da qui potrebbe derivare la sindrome dell'impostore, però restando sul concetto di procrastinazione è una sensazione davvero spinosa perché poi per l'appunto si pensa di fare del bene, addirittura si va a procrastinare, cioè mentre facciamo qualcosa che concerne l'obiettivo principale tendiamo anche un po' a smistare i compiti, a fare anche qualcos'altro perché ci fa sentire meglio. Rimandiamo fondamentalmente i compiti principali della nostra vita. Ciò che è di positivo è il procrastinare poi è la possibilità di individuare il problema che caratterizza il nostro lavoro un po' rallentato e quindi in qualche modo analizziamo questo comportamento e scopriamo le nostre paure. Però bisogna saperle affrontare, bisogna essere anche realisti con noi stessi. Un aspetto da considerare è il perfezionismo. Spesso è considerato un pregio ed è vero, io mi ritengo una persona piuttosto perfezionista, però talvolta può essere un blocco che attiviamo per paura di fallire e ha a che fare con la procrastinazione. Noi siamo perfettamente imperfetti, quindi la spinta verso il non è mai abbastanza invece di aiutarci può soltanto ostacolarci. È vero quello che scrivo, infatti anche scrivere determinate cose cerca in qualche modo, diciamo così, è un'ottima metodologia per cercare di analizzarsi, autoanalizzarsi. Accontentarsi spesso non fa male, infatti non siamo dei supereroi, non possiamo pretendere troppo da noi stessi, però non dobbiamo, ecco perché è difficile parlare di questo fenomeno, non dobbiamo nemmeno accontentarci troppo a essere autoassolventi, indulgenti nei nostri confronti, anche perché se ci vogliamo del bene bisogna essere talvolta rigidi con noi stessi e creare un ambiente favorevole anche allo sviluppo di comportamenti resilienti, si sente tanto parlare di resilienza, però secondo me nella maniera sbagliata, perché di fatto dovremmo essere anche un po' ottimisti, infatti una valutazione negativa è un handicap in partenza, una valutazione negativa della situazione di noi stessi, quindi è giusto avere anche un certo ottimismo in alcuni casi. si insinua poi in noi la sempre più forte convinzione di potercela fare, però a questo ottimismo deve essere affiancato il duro e costante lavoro che ci spinge a raggiungere i successi personali in tutti gli obiettivi, qualunque tipologia di obiettivo che ci prefessiamo nell'arco della nostra vita. È un processo di crescita continuo che si caratterizza fondamentalmente di tante botte sui muri, tanti palli presi, tante negazioni, tante delusioni, però è un processo normale nella vita, anzi noi l'insuccesso dovremmo imparare a nobilitarlo, perché è quello che ci fa crescere di più fondamentalmente. E sapere di potercela fare è proprio il primo passo, però ripeto, come ho detto, deve essere supportato dall'impegno, che non è facile, soprattutto quando si hanno magari tanti interessi o anche tante distrazioni. Quindi questo è un po' il mio pensiero, è un qualcosa a cui tengo, per questo che ho voluto portare il video e ho voluto parlarne, andando un po' oltre i tempi che solitamente caratterizzano i miei video, però lo reputo necessario. Quindi spero che il video vi sia piaciuto e se vogliamo avviare una riflessione sotto nei commenti mi farebbe piacere, altrimenti ci vediamo alla prossima.